Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Giovanni Pentangelo stasera festeggia questo traguardo importante e raggiunto la promozione in Serie B, una grande soddisfazione. Sì, sì, una grande soddisfazione, non solo per me perché come ho già più volte ribadito il mio successo e il successo del gruppo, io rappresento soltanto al momento la punta di diamante della mia sezione, ho avuto più fortuna e sono riuscito a transitare nell'organo tecnico superiore che sarebbe la Can B. Erano anni che a Nocera non c'erano esponenti in Serie B e A, dopo vent'anni per fortuna mio tramite si ritorna nella categoria importante. Presidente, la sezione Aia di Nocera Inferiore dopo vent'anni torna nel calcio che conta grazie a Giovanni Pentangelo. Siamo contenti che Giovanni torna in una categoria importante che è la Can B, voglia evidenziare i sacrifici e l'impegno da parte sua da un punto di vista personale e professionale, però la sezione di Nocera tutti gli anni, poi dietro Giovanni, quelle che ci convolta e che ci sono degli ottimi arbitri che ci auguriamo che possano avere le stesse sue soddisfazioni.